Il futuro è sempre più multimediale da una parte, credo che Corriere TV finirà per essere in tempi più o meno brevi, una vera e propria televisione online, un flusso continuo di informazione che ovviamente può intervallare i TG, le video news, le rubriche e tutti gli altri contributi che vengono prodotti per avere anche una possibilità di fruizione continuativa nell'arco della giornata, all'inizio probabilmente nelle ore principali e poi forse anche a coprire le 24 ore di tutta la giornata. Non moriranno certamente quei giornali che sapranno rinnovarsi, cambiare non solo da un punto di vista di struttura grafica ma anche da un punto di vista editoriale, cioè di contenuti, che sapranno cambiare per riposizionarsi in un sistema dei media che con internet, ma non solo con internet, con la televisione satellitare, con la free press, con tutta una serie di cose che sono successe negli ultimi dieci anni è completamente cambiato. Quello che è il corredo multimediale, cioè il fatto che ci sia o non ci sia un video, una galleria di immagini, che non ci siano approfondimenti di altro genere, è un criterio per valutare l'importanza della notizia. Attraverso internet si può distribuire la radio, la televisione, il giornale, qualsiasi forma di comunicazione. Ha delle caratteristiche che nessun altro media al giorno d'oggi, almeno fino a oggi ha, e cioè l'interattività, il dialogo continuo tra i giornalisti, fra il lettore e il proprio giornale.